Bene, adesso invito, cedo il testimone a Fabio Lurag e Fabio Stanga per la presentazione della Business Technology Solution. Grazie. Grazie. Vai Fabio. Facciamo sparire queste foto velocemente. Come si fa? Sì, anche perché non le è rimasto. Ecco, questa qui, no vabbè, lasciamola un attimo qua. Allora, buon pomeriggio a tutti. È l'ultima sessione tematica, quindi capisco che sia durissima sopportare altri due Fabio sul palco. Non saremo gli ultimi, tra l'altro, Fabio, quindi rassegnatevi. Cercheremo di sfruttare i suggerimenti che abbiamo avuto stamattina e quindi di raccontare una storia che ha un inizio, che è la fotografia di come stiamo lavorando in BTS e in MySmartService, giusto? Assolutamente. in questo momento e raccontarvi cosa vorremmo fare per arrivare a cambiare il modo con cui stiamo andando al mercato insieme a tutta la struttura commerciale di Var Group. Quindi io inizio, poi toccherà Fabio, a dirvi come è organizzata e che cosa fa la BTS in questo momento. Questa è la BTS in termini di numeri, li avete visti ieri, la crescita l'avete vista ieri. Ho aggiunto in questa slide un dato che è ancora provvisorio, spero si avvicini un po' più al 12, che per me è molto importante perché sulla tecnologia pura il dato del margine non è trascurabile e quello che vedete invece sulla vostra destra è come facciamo a farlo, quindi ci alleniamo moltissimo, siamo molto agguerriti da questo punto di vista. Apro e chiudo una parentesi, direi che questa foto chiude la sterile polemica sulla più, superiore, inferiore, laterale. Così la chiudiamo definitivamente e siamo anche allenati per difenderci in maniera adeguata. Torniamo seri e vediamo, qui manca un pezzo, eccolo qua, questo è in un'unica slide come lavoriamo oggi. Quindi la struttura è quella da un paio d'anni, i brand manager che seguono i vendor principali, dei team organizzati sulla parte a volume e sulle soluzioni a valori e sulle specializzazioni legate ai brand, dei gruppi che sono i solution architect e i technical solution specialist che creano e disegnano i progetti basati sulla tecnologia e li trasformano insieme ai vendor ingaggiati sul singolo progetto in quelle soluzioni che poi tutti voi trasferite ai nostri clienti. Le richieste ci arrivano attraverso, quasi tutte, ci arrivano attraverso uno strumento che conoscete bene che è il CRM, come vedete ne gestiamo circa 8.000 all'anno, che non sono esattamente poche, ce ne sono ancora un gran numero tra l'altro che non passano dal CRM e che sarebbe opportuno invece entrassero anche loro in questo strumento perché ci consente di essere estremamente più efficaci, puntuali, tracciarli, risponderli per tempo, evitare escalation trasversali che non aiutano nessuno nel lavoro. Vi volevo dare un'altra informazione perché magari non è di dominio pubblico, il numero che avete visto prima legato alla tecnologia, l'80% di quel valore noi lo facciamo con quei signori che vedete scritti là in alto, quindi quelli sono i vendor con cui sviluppiamo la parte più importante del nostro business. Sono più o meno in ordine di classifica. La sicurezza non esiste come vendor ovviamente, abbiamo accorpato in un'unica categoria tutta una serie di prodotti che sono legati a quest'ambito e che vengono venduti grazie al team di Yarix. Dominerò un'altra volta Yarix perché prendo un gettone da gatto tutte le volte che lo faccio, quindi abbiate pazienza, quindi quando il team di Yarix assembra queste soluzioni le abbiamo accorpate in un unico vendor per darvi giusto la dimensione. Detto questo, e non c'è nessuna novità, invece volevo rappresentarvi, e abbiamo provato a farlo graficamente, quello che sta cambiando e quello che anzi è già cambiato nella tipologia di offerte che quotidianamente siamo chiamati a costruire. Grazie a questa slide che vi assicuro è più semplice di quello che sembra. Allora, cominciando da sinistra, ci sono delle soluzioni che si portano dietro, un contenuto di tecnologia importante che sono relativamente semplici da indirizzare e sono quelle che sono guidate da una soluzione, tipicamente abbiamo visto prima parlare di ERP, un ERP di solito definisce qual è la piattaforma tecnologica di riferimento e quindi si va a proporre quella. E' abbastanza semplice anche uno scenario in cui c'è uno specialista, e qui richiamo il solito esempio di Yarex, se un nostro cliente sceglie Yarex come partner per risolvere una tematica legata alla sicurezza, adotterà quella tecnologia che lo specialista gli suggerisce e quindi viene abbastanza facilmente indirizzata. Tutto il resto è diventato estremamente più complicato, perché quei signori che avete visto prima, quindi i principali vendor, concorrono quasi sempre in contemporanea sullo stesso scenario, richiedendo uno sforzo prima al cliente di comprensione e poi a noi di disegno estremamente più elevato di quello che non succedeva qualche mese fa o qualche anno fa. E quindi cambia, cambia, è cambiato e succede già adesso, il modo di relazionarsi e di ingaggio verso i clienti e cambia la relazione che noi dobbiamo tenere verso i top vendor, perché sono cambiati negli ultimi mesi in maniera radicale. Ci sono nuovi ruoli, ne ho elencati alcuni, non ve li leggo, perché appunto è l'ultima sessione, quindi evitiamo di dilungarci, ci sono nuovi ruoli sul cliente, che sono legati ai nuovi scenari tecnologici, l'orchestratore non esisteva fino a qualche tempo fa, ma è evidente che se io vado a proporre una soluzione di cloud ibrido, magari ho il ruolo di orchestrare il cloud pubblico che il cliente ha scelto, è un mestiere che prima proprio non esisteva. Sicuramente ci sono maggiori complessità e sicuramente debbo essere quello che semplifica e crea valore rispetto alle politiche del vendor. Ogni vendor cerca di porresi verso il cliente indirizzando le proprie esigenze, promuovendo quei prodotti dove guadagna di più, dove in quel momento ha da fare una quota, ci sono mille motivi e il nostro ruolo è quello di cercando di accontentare tutti, però portare al cliente invece veramente quello che gli serve. Mi soffermo soltanto sui nuovi ruoli verso il vendor, ad esempio l'influenzatore, anche questo è relativamente nuovo, succede soprattutto in questo momento con i principali vendor software e che cosa significa? Significa che ci può essere un qualcuno a cui viene riconosciuto un ruolo anche economicamente, quindi sto parlando anche di riconoscimento di fee, solo, tra virgolette, perché ha influenzato la scelta di una tecnologia e quindi dell'acquisto di prodotti di quel vendor, ma magari non è lo stesso soggetto che li vende, perché il cliente ha un accordo internazionale, perché il cliente è già contratualizzato dal vendor in maniera diretta, per mille motivi, però si può essere il partner che ha generato un progetto che fa utilizzare della tecnologia, la fa consumare, c'è tutto il discorso della consumption che credo che ormai vi sia noto, c'è tutta una tematica nuova di soluzioni, tutti i vendor di tecnologia, anche quelli che fanno le stampanti, hanno un catalogo di soluzioni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se si vende una stampante abbinata ad una soluzione che sta in questo catalogo, si guadagna il doppio. Ora, bisogna essere bravi nel utilizzare queste cose, magari diventare noi fornitori di queste soluzioni, farle mettere a catalogo in maniera tale che oltre a guadagnare di più sulla stampante vendiamo anche un qualcosa che magari non avremmo venduto da soli. Quindi c'è un indebolimento sostanziale del modello transazionale, che cosa vuol dire? Il meccanismo, il cliente mi fa una richiesta, io mi giro verso il vendor, chiedo una quotazione con uno sconto e la riporto dall'altra parte, finisce in un tempo lungo a piacere, non so dirvi in quanto, ma sicuramente è destinato a terminare, a favore di un modello estremamente più complesso e articolato. E noi abbiamo il dovere, come struttura di supporto alle vendite, di adeguarci a questo cambiamento e quindi oggi vi vorremmo raccontare come abbiamo pensato di affrontare questo scenario. Qua mi fermo, credo di aver usato correttamente il tempo, lì c'è il tuo microfono così... Ah no, tu ce l'hai, basta, sei a posto. Grazie. Allora, innanzitutto, tanto per sgombrare il do di dubbio, non mi considero una BU, o meglio, in realtà facciamo parte della BU di Smart Services in quanto comunque le nostre attività principalmente aiutano Smart Services oggi a soluzionare e poi a essere presenti sul mercato sia dal punto di vista dell'offerta che poi della gestione. Ma quello che realmente My Smart Services, che è il team che in qualche modo oggi, in cui oggi sono leader per quanto riguarda le attività, cerca di dare una mano a tutte le business unit, ma soprattutto ai commerciali, nell'interpretazione di quello che è un po' il modello di offering che abbiamo oggi all'interno. i numeri dei servizi e questo non sono i servizi di Smart Services che avete visto ieri, oggi sono raccolti in questo fatturato che è circa 65 milioni con una crescita del 17-67%. In realtà dove agiamo noi come My Smart Services è circa il 50%, cioè fondamentalmente noi operiamo per andare a indirizzare quelle offerte e poi gestirle anche dal punto di vista del servizio con una governance che è fatta dai project manager e dai transition manager pari circa al 50%. Come vedete c'è una crescita importante, una crescita importante che comunque tendenzialmente c'è stata anche negli anni, ma in quest'anno forse di più, nel senso che siamo riusciti a dare, secondo me, un po' più di movimento. L'ordinato e poi il fatturato sicuramente sono cresciuti meglio che gli scorsi anni. Ma soprattutto c'è stato un incremento del post-log, cioè fondamentalmente di quello che noi ci siamo trascinati in termini di fatturato per il 2020, 2021, 2022, cioè siamo riusciti a firmare più contratti a lungo termine, quindi da 3-5 anni. E questo ci porta un portafoglio di fatturato presente sui servizi di 17 milioni quest'anno, da cui partiamo. Quindi partiamo da comunque uno zoccolo già duro che si è formato e che ci permette sicuramente di raggiungere una crescita maggiore. L'altra parte importante è che siamo riusciti a creare pipeline, cioè fondamentalmente siamo riusciti a generare una serie di opportunità che è superiore a quella degli anni precedenti e questo ci ha permesso anche di vincere di più. Era un discorso sicuramente di calcolo di probabilità, non siamo ancora se vedete la wear rate ancora molto bassa perché il 15% effettivamente è una wear rate bassa però dall'altra parte un lavoro maggiore nel processo di ingaggio una qualificazione maggiore anche una gestione dei ruoli più corretta in termini di responsabilità e poi anche il tracking settimanale che abbiamo fatto sulle opportunità che abbiamo ingaggiato quindi nella fase di ingaggio proprio dall'inizio fino a quello che è la firma abbiamo sempre tenuto sotto controllo l'avanzamento dell'opportunità ci ha permesso di vincerne di più ok? E se volete anche di mantenere quelle sospese per noi è un problema le opportunità sospese perché prima o poi comunque saltano fuori ci creano comunque un'attività maggiore nel riciclo dell'opportunità e quest'anno effettivamente si sono ridotte abbiamo dovuto lavorare diversamente ci siamo concentrati molto di più sulla fase di qualificazione dell'opportunità e l'abbiamo se volete in qualche modo gestita fino a poi a sviluppare l'opportunità con le business unit quelle che avete visto oggi e che comunque hanno permesso sicuramente di una maggiore se volete semplificazione del processo da un lato e dall'altro una qualità migliore dell'offerta in termini di sia di competitività che di proprio tecnicamente di qualità dei documenti parlo di questa fase ma in realtà poi ci siamo occupati da maggio in poi anche di tutta la fase di governance di quello che portavamo a casa di firmato insieme a voi come parte commerciale perché? perché abbiamo inserito dentro sia i project manager che i transition manager finalmente due figure che potevano dare continuità al processo di ingaggio nella fase implementativa e poi successivamente di customer satisfaction il modello operativo che abbiamo usato è quello che conoscete da sempre cioè noi come MySmart Services ed è il motivo per cui vi dicevo non siamo una BU ma siamo parte di tutte le BU lavoriamo cross su tutte le realtà entriamo siamo ingaggiati nella fase di opportunity selection board che coordiniamo e per quelle attività che noi consideriamo per quelle opportunità che si consideriamo complesse la complessità è data dal fatto che comunque dobbiamo interagire con varie business unit oppure semplicemente perché abbiamo a che fare con dei clienti che sono strutturati o sono multinazionali e che quindi hanno bisogno di interlocutori diciamo abbastanza come una seniority più alta dal punto di vista della competenza sui processi sulle metodologie che le multinazionali utilizzano per portare avanti l'opportunità se notate lavoriamo abbiamo nel 2018 lavorato cross su tutte le business unit tranne la parte BTS sicuramente il project manager e i transition manager ci hanno aiutato in quest'anno anche ad avere una maggior credibilità sul cliente e da qui effettivamente anche se volete una maggior credibilità sulle strutture commerciali pensate che la struttura oggi che conto 8 persone da quando sono partiti hanno iniziato a gestire direttamente 14 clienti e 34 progetti questo a tutti gli effetti se pensate in 6 mesi essere già a questo livello vi dà l'idea di quanta necessità c'era di queste figure per riuscire a gestire comunque delle attività o comunque dei contratti abbastanza diciamo complessi dal punto di vista della soluzione ma anche poi della delivery però manca qualcosa noi avevamo bisogno quest'anno di trovare comunque il modo di impegnarci diversamente essere ancora più vicino alla parte commerciale quello che ha funzionato lo scorso anno è stato quello che è stato soprattutto il fatto di affiancare i commerciali nella fase di qualificazione dell'opportunità ma quello che secondo noi può funzionare ancora meglio è quello di accompagnarli fin dalla prima visita a farci conoscere per creare quella credibilità quella fiducia se volete anche quella fidelizzazione del cliente fin dall'inizio noi abbiamo bisogno di figure che non sono puramente commerciali ok che hanno quindi una credibilità tecnica una competenza tecnica forte da affiancare magari clienti scelti fin dalla fase di ingaggio del primo incontro e se volete questa trasformazione quella che diceva Fabio prima si sta diciamo viene comunicata in tutti i modi oggi l'IDC comunica cioè ci dice già quello che è un trend che noi conosciamo perché lo vediamo tutti i giorni quello che sono se volete la discontinuità in termini tecnologica che sta avvenendo sul mercato quello che è un po' la parte di innovazione avete sentito una quantità di offering completamente diverse che sono state presentate con delle capacità di crescita enormi sicuramente il mercato richiederà questo e noi dobbiamo essere pronti anche con le figure diciamo ai fianco delle nostre figure tecniche ai fianco dei nostri commerciali per accompagnarli in questo percorso il passaggio che c'è stato stamattina nel primo intervento che era un po' quello del disegnare un filo fra tutti i puntini nel disegnare una storia per il cliente sicuramente è un po' quello che noi facciamo noi abbiamo due clienti abbiamo il delivery nostro interno e abbiamo i clienti veri e propri e quello che facciamo tutte le volte è disegnare questo filo conduttore che cerca di unire di armonizzare sia l'offerta interna ma anche le necessità del cliente in quest'ottica nel 2020 abbiamo pensato di da un'idea se volete da un'esistante sicuramente nostra come il management services ma anche un'idea di Fabio di trovare un punto d'incontro cercare di in qualche modo se volete contaminare i due i due gruppi di lavoro per riuscire a trovare una figura nuovo un ruolo nuovo da proporre alla nostra struttura commerciale l'obiettivo è quello di integrare se volete il portafoglio di offerta di Var Group con quello che è il portafoglio di offerta dei nostri brand strategici cercare di trovare tutte quelle soluzioni necessarie alla se volete alla nostra struttura commerciale per essere più competitivi per essere sicuramente più credibili in questa fase di cambiamento sul mercato e se volete un po' la sfida è proprio quella di diventare interpreti di quella discontinuità di questo attuale mercato IT aumentando quello che è il nostro presidio tecnologico intanto cercare di guardare modelli di business che sono sicuramente se volete non convenzionali rispetto a quelle che sono le attività che portiamo avanti tutti i giorni dobbiamo concentrarci sulla parte iniziale come vi ho detto e essere più accanto a quello che sono le necessità dei nostri sales che sono presenti sul mercato dobbiamo costruire la relazione individuare con il cliente delle opportunità identificare un perimetro la parola che stamattina ho sentito che mi è piaciuto molto è mentor cercare di accompagnare il cliente di disegnare con lui la sua storia una volta si diceva il piano strategico IT quello che è fondamentalmente quello che faceva l'IT manager da uno a tre anni disegnava quello che era la sua strategia oggi sicuramente l'IT è una delle figure che noi dobbiamo interfacciare non c'è più soltanto lui e quindi nella storia che dobbiamo disegnare con il nostro cliente dobbiamo interfacciare quelle che sono tutte le nuove figure che in qualche modo sono diventate il fulcro della sua innovazione diciamo del suo percorso digitale dobbiamo definire una nuova competenza ed è questo un po' l'obiettivo di questo progetto con Fabio e con una presentazione che Fabio mi ha fatto vedere un paio di mesi fa si è pensato comunque a una figura che coniugasse quello che era la competenza dei servizi con quella che è la competenza tecnologica e se volete naturalmente si è pensato che tutto sommato il progetto doveva essere quello di iniziare a parlarsi quello di integrarsi ok l'integration specialist è un nome che è stato definito diciamo così per semplicità potrebbe chiamarsi mentor potrebbe chiamarsi in qualsiasi altro modo però l'obiettivo è quello di trovare una figura che è capace di costruire una relazione di fiducia con il cliente basata sulla conoscenza di quello che è il suo business di quello che è la sua organizzazione della sua infrastruttura tecnologica della sua infrastruttura applicativa perché per operare fondamentalmente in maniera congiunta nella definizione di nuove opportunità per un piano medio-lungo termine è molto importante ok perché aiuta la nostra struttura commerciale a creare quella fiducia quella fidelizzazione del cliente fin dall'inizio che poi ci porterà nella fase successiva a governare quello che è se volete l'ingaggio dell'opportunità fino a quello che è la firma dell'opportunità anno scorso noi abbiamo perso diciamo diverse opportunità per mancanza se volete di controllo e governo del cliente ma non per colpa di quello che è la struttura commerciale ma perché non riusciamo perché semplicemente interveniamo in una fase di ingaggio dove il cliente ha già deciso la soluzione lavora esclusivamente per il prezzo e quindi si basa su questo noi dobbiamo essere più veloci dobbiamo intervenire prima dobbiamo intercettare prima le nostre opportunità per riuscire poi a vincere questa figura deve avere degli obiettivi obiettivi verso il cliente quindi di fiducia e credibilità obiettivi verso il vendor sul fatturato perché dobbiamo aumentare quella che è il nostro profitto delle compensation e delle consumption obiettivi di pipeline verso le nostre linee di servizio interna le business unit ok e poi obiettivi chiaramente verso overgroup nel nuovo progetto in questa nuco che si potrebbe diciamo definire finalmente diciamo MySmartServices anche lei cambierà nome la BTS e MySmartServices si fonderanno e cercheranno di trovare tutte quelle sinergie mi sono sicuro ce ne saranno tantissime per definire sia questa figura di ingaggio ma poi un percorso di crescita per tutte le persone nel loro interno e credo che questo sia se volete la sfida che ci porteremo avanti oggi non abbiamo definito i tempi anche perché comunque dobbiamo mantenere i numeri che Fabio ha fatto vedere oggi che io vi ho fatto vedere e quindi con un team che oggi è di se volete sei persone che operano come MySmartServices dal punto di vista dell'ingaggio e otto persone per quanto riguarda il project manager più le persone di Fabio sicuramente diciamo non è che abbiamo effettivamente tempo per dedicarci a formare comunque queste figure dovremmo inserirne altre ci sarà un piano di crescita sicuramente se andrà avanti a step ci sarà un impegno di tutti perché effettivamente è il passo diciamo naturale per un cambiamento così grosso dall'altra parte quindi servono anche persone che dal punto di vista dell'impegno professionale ma io dico anche della capacità e dell'esperienza siano in grado di guidare questo cambiamento oltre a me Fabio quindi chiamerei sul palco due persone uno è Claudio Castaldini e l'altro Mauro Alberetti grazie a te Fabio se vuoi commentare spero che ci sia ah no no non per il coso se volevi commentare qualcosa se no vanno via subito se li premio io no è è un piacere avervi qua insieme ed è un premio ovviamente a quello che fate quotidianamente e tutti qua sanno quanto vi stressano quanto i salti mortali che fate per rispondere a tutti in tempo ma tenete presente che è un premio a prospettiva bravo perché adesso vi aspetta il doppio lavoro è meglio che vi breacate prima per poi iniziare meglio il tema è questo quindi non è da per laureare di meno questa cosa no no secondo me finisce al contrario comunque bravi complimenti a entrambi grazie ragazzi a te noi con una puntualità straordinaria abbiamo concluso credo che Maurizio Francesca non so chi devo passare il microfono siano qui decidetevi perché non ho un repertorio alla Neri Marco Re quindi non posso fare più di tanto quindi fate qualcosa eravate indecisi va bene grazie a tutti grazie